Il settembre 2014 LibreTV è nella vigneta di Ostia in compagnia di Franco Giacomelli. Franco Giacomelli ci parla di una nuova associazione che è nata da poco, si chiama Mare Libero e ce la presenta. Ciao a tutti, sono Franco Giacomelli, segretario della nuova associazione Mare Libero. Questa associazione è nata da un gruppo di amici, di cittadini che ritiene importante e necessario soprattutto intervenire e fare qualcosa per questa situazione del mare di Roma, Ostia, cioè del tipo di gestione di quello che è le spiagge del litorale. Il 90% del litorale è dietro un lungomuro, una sorta di mare in gabbia. I radicali Roma sono riusciti a far riaprire quei due varchi al puntile, ma è soltanto l'inizio, una breccia sul lungomuro di Ostia, in quanto la battaglia deve continuare, i problemi sono tanti. Secondo noi e secondo le leggi, il mare e le spiagge deve essere visibile e fluibile 365 giorni l'anno, sempre comunque. Non è possibile che bisogna aspettare maggio-settembre dalle 9 di mattina alle 7 di sera, è inconcepibile, è assurdo. Quindi noi continueremo insieme a chiunque voglia partecipare, continueremo appunto questa battaglia in questo senso, per cercare di liberare il mare di Roma. Quindi è per questo che vi chiediamo il vostro sostegno, la vostra partecipazione, la vostra iscrizione alla nostra associazione. Ci potete trovare su Facebook, il mio numero di telefono è 330-854570. Vi aspettiamo. Volevamo fare un paragone, un confronto con questo ambiente che ci circonda. Siamo qui appunto nella pineta di Castelfusano, altra zona sempre di Ostia, bellissimo ambiente. Anche questo è un patrimonio comune, un bene comune, ma qui non ci sono orari, cancelli, eccetera, eccetera. Quindi come potete vedere è un bene comune libero, fluibile sempre, 365 giorni d'anno e così deve essere concepito il mare e le spiagge di Ostia. Noi ce la mettiamo tutta, vi aspettiamo, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Grazie. Grazie. Grazie.